Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il nisseno Giuseppe Notarrigo, 33 anni, e il sancataldese Francesco Casagni, di 25, arrestati e condotti in carcere nei giorni scorsi dagli investigatori della squadra mobile in quanto accusati di aver spacciato cocaina tra Caltanissette e San Cataldo. I due sono stati interrogati stamattina dal GIP David Salvucci. Tra il settembre 2021 e il gennaio 2022 i poliziotti hanno fatto luce su una lunga serie di episodi di smercio di polvere bianca. L'indagine si è snodata tra intercettazioni, appostamenti, fotografie e videoriprese.